cari videogiocatori e cari videogiocatrici ben ritrovati sul mio canale per questa diciassettesima puntata di dragon ball fighters si numero 17 episodio e niente bisogna andare verso gohan ok adesso abbiamo anche la nostra android numero 21 in versione buona va bene battaglia contro solo krillin e poi contro il boss andiamo dai facciamo questa battaglia boss a troppo lontano a perché a non l'avevo notato no pardon devo ancora andare di là ok adesso posso vabbè è arrivato anche majin bu non me ne frega gohan e krillin a noi allora è forte lei devo devo dirlo devo dire però sta prendendo dai vedete ha degli attacchi molto potenti quasi quasi passo numero 18 contro il maritino clone un'aggressività voleva utilizzare ha utilizzato lo stesso attacco contro i saibaiman ciao krillin ciao krillin di nuovo no 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 dovrebbe essere andata ok è andata va bene va bene ci sarà qualche filmato arrivano i rinforzi goku sfida un'altra numero 21 ah goku allora si unisce anche lui arrivano i rinforzi ai laboratori ok ma la buona o la cattiva no è la cattiva no L'attacco di 17 non avrà sortito Ha infatti alcun effetto Quindi è tutta opera Dell'android numero 21 Negativa, quella cattiva La sua controparte Per diventare più forte Per diventare più forte Per diventare più forte Ma questa è stata un'esperienza E' una cosa che mi ha fatto E' una cosa che è Per amicizare E' una cosa che ha fatto Per amicizare No, non è vero che ho fatto questo, non è vero che i nostri amici, ma non è vero che i nostri amici, ma non è vero che i nostri amici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma no, questa mangia anche i sassi. Non credo che lo farà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non capita tutti i giorni. In questo arco Goku fa la comparsa proprio all'ultimo. Si è fatto desiderare. Grazie a tutti. E Goku gli dà pura retta. Ma si mette due secondi tanto Goku. Ma tornerà tra due secondi tranquilla. Grazie a tutti. Ve lo dicevo io. Ma Krillin non ha bisogno. Ha solamente lanciato un Kenzan. Non è che ha fatto chissà cosa. Si bravo. la metà malvagia. La metà malvagia come... Goku. Ehm... Goku è il Super Saiyan blu eh? No eh? Perchè? Perchè? Che succede adesso? Perché si rifiuta? Ehm... 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 Ha appena ingerito un telecomando. Ha appena ingerito un telecomando. L'ha già presa. Subito. Solo vedendola. È un prodigio. Anche Cell c'era riuscito. Non è da meno eh? Anche Cell... Ma Jimbo è Cell e adesso androide numero 21. Abbiamo avvertito le vostre aure Ah ma siete degli androidi Ah beh E' vero Si può si può Beh avevi un buon motivo eh Ah beh perché l'aveva Si Eh Ha preso un po' di legnate Kriilin però lei l'ha fatto Per proteggerlo E' un po' di legnate Si La stessa tecnica di Majin Buu Non è che sono parenti Ah beh è vero Le sue cellule Beh sono parenti Lo possiamo dire E' un po' di legnate Sì Bisogna salvare la terra Per l'ennesima volta E' sempre in pericolo Beh Goku un eroe no? Lei è perplessa Krilin ovviamente no Eh infatti è sempre stato così Mi piace questo arco Il terzo Forse è quello che apprezzo di più Perché è abbastanza diverso dagli altri due Anzi molto diverso in realtà I compagni dici? Più siamo meglio è Uniti vinceremo Si spera Adesso c'è anche Goku nel gruppo Ah è ottenuto alleati multipli Alleati multipli nel senso che li ho tutti Eh sì ci sono tutti Eh sì ci sono tutti Meglio di così Allora Vabbè Goku Eh io ho questa può essere una squadra valida Bisogna raggiungere Eeeh Cell Quindi due battaglie obbligatorie Va bene Ah adesso c'è qualche filmato Ah adesso c'è qualche filmato Lei è più calma E forse anche più carina Rispetto alla sua controparte malvagia Beh ma non vuol dire C'è anche la strategia La velocità Non è solo la forza Intelligenza E' già deluso Goku Non cambia male Dai eh non cambia male Goku Ah non cambia male Goku Beh allenandosi sì sì Se ti alleni diventi più forte E' anche la mia intenzione In effetti Sì sono intenzionato a Farla salire di livello Ulteriormente Sorpresa Cosa? Sì D'accordo dai Un siparietto carino Adesso facciamo questa battaglia Ci rivediamo dopo Battaglia vinta Si va avanti Da questa parte Ancora il clone di Tenshinan Va bene Magari posso anche cambiare un po' la squadra Non lo so Non lo so Ok una battaglia Boss Potrei mettere piccolo E Krillin E Krillin Cambiare un po' Battaglia boss Filmato Ah con piccolo pure Sempre serio piccolo Non è convinto E tu non era buono Lui non era buono Neanche Vegeta Ma poi sono diventati buoni Quindi perché non Perché non può farlo anche Numero 21 Eh infatti Poi ha messo la testa a posto Radish Suo fratello Per chi non lo sapesse Ma lo sanno tutti dai Lo sapete tutti Mezzo i matti Per chi non lo sapete bisogna combattere non c'è tempo per le convenzioni sociali come diceva nell'anime allora restiamo fa il cambio di personaggio porca miseria no 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 allora sta andando tutto male vai piccolo pestalo a chi colpi ah beh l'ha colpito stranamente il computer è diventato molto più strategico decisamente più strategico porca miseria addio piccolo no vai Krilin è tutto nelle tue mani stranamente no 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 allora la squadra vai con un Kenzan no Krilin rischi il fallimento allora ma sei sulla difensiva Goku oh finalmente alleluia forse riesco a stendere almeno Goku si a terra bene bene attento alla barriera è pericolosa ma va 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 ma continuo a utilizzare no a terra volevo utilizzare allora allora Cell maledetto prova a resistere a questo questo non ve l'ho fatto ancora vedere ok 2 a 1 ce la faranno i nostri per fortuna non è un gran che Gohan ok è andato non è stato semplice una battaglia molto combattuta piacevole trova androide numero 21 ma siamo alla fine non lo so nemmeno io ok sta mangiucchiando qualcuno non era un gran che ah i cloni eh ma quelli sono un po' sintetici non sanno di nulla tutto tutto fa brodo l'ha già fatto adesso siamo una squadra imbattibile non ne sarei così sicuro io al posto tuo secondo me no 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 Grazie a tutti Ah li abbiamo fatti fuori tutti Ah li ha mangiati tutti lei Non li abbiamo fatti tutti fuori noi O finchè lei non troverà noi Alla prossima vegeta dritto al dunque come al solito però con una genkidama magari no eh hai qualche idea un piano dobbiamo andare ancora avanti mamma mia ci sono ancora delle battaglie va bene mi fermo qui spero che vi sia piaciuta questa diciattesima parte diciassettesimo episodio e noi nella prossima andremo avanti forse finiremo il gioco al prossimo video ciao